Ecco amici vi faccio vedere i super mega camper che ci sono, vedi questo qui è un Fiat del 2007 poi questo qui, poi ce ne ci sono anche quelli come dire più datati fondamentalmente BS, for transit, poi anche questo del... Questo è 2003, questo è 2003, anche questo, vedi ti faccio vedere un bel po' di... Questo è del 2006, questo invece è un po' più vecchio, lì c'è un signore col trattorino e la legna, vedi questi... Vi è, non so se è del 2006 però bello, 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 te lo faccio vedere... Si trova grandate, ecco questo è un po' più datato naturalmente, ed è noleggio e vendita, sono fichissimi... Poi ci sono le roulotte dietro, come vedi... Questa è del 2008, ed è più grande rispetto agli altri, adesso quello lì è piccolo... Questo qui più vecchio è il Ducato... Questo è... Questo è... Poi c'è, questo è del 2009, turbodiesel, targato AY, quindi sarà degli anni 90, questo è più nuovo, del 2010, targato Como... Eh, vedi... Questo è addirittura coperto... Poi c'è, questo è del 2008... Vedi, questo è del 2002, 2008 diciamo di misura... Buongiorno... Prego... Eh, non ne ho idea in realtà, non ne ho che lo so dire... Mi spiace... Questo... Questa è del 2007, targato DE... Cioè questi sono nuovi praticamente... Ci sono i ciclisti... Eh... Ok... Vapò... Nulla... Vedete, questi sono proprio nuovi, nuovi... Questo... Cioè questi, vapò... Questo è del 2007 è proprio nuovo, nuovo, eh... Riviera... Non so cosa sia... Per i più esperti... E... Però insomma, vedi... Adesso siamo un po' in controluce, quindi non... Questo invece è un po' più datato, targato CR... Probabilmente sarà inizi del 2000, 2003, 2004... Quindi... Ma quello lì... Tipo... Stupendo, perché... Questo qui del 2007... Proprio bello, bello... C'è il signore che si è incuriosito... Probabilmente... E... Niente lo... Vedete... È nulla... Vi lascio... Il signore si gira, perché... Si è incuriosito, no? Beh... Tu non lo vedrai... Però... Non riesce a... A capacitarsi... Va bene, niente... Te li faccio vedere anche da qui... Ehm... Perché... Perché io un tempo seguivo... Ehm... Dei canali di camper, eccetera... Chi viveva in camper, chi vendeva camper, eccetera... E mi era un po' appassionato... Guardate qui la sporcizia che c'è... Wow... Ma che bello... Ma che bello... Quanta... Vabbò, al di là di tutto... Vedi... Te li faccio rivedere da qui... E... In modo che... Vedi... In modo veloce... Questo manca la freccia, vedi? Vabbò... E' BX... Forse degli anni 90... Bu... Questi invece degli anni 80... Probabilmente... E poi... Vabbò... Questi saranno degli anni 90... Vabbò... C'è... Un po' di tutto... Questo è un Mercedes... Non so se i Mercedes siano migliori degli altri... Non ho idea... Ehm... Questo... Bello... Questo è un po' meno bello... Personalmente... Vabbò... Questi sono un po' più datati... Poi... L'unico Ford che ho visto qui... Almeno soprattutto qui... Davanti alla strada... E' il Transit... Poi... Però è un Transit piccolo... Vedi? Piccolino... Non è tanto... Alla fine... Diciamo... Poi così grande... Grande... Piccolino... Se dovessi comprare un camper... Io comprerei questo Transit piccolo... Ok? Adesso non li vedrai bene... No, è.. Non è che cosa... Quelle... Adesso... Uffle il tempo...